E' stato trovato con due panetti di hashish per un totale di 200 grammi in uno dei calzini e l'altro nascosto negli slip. Il fatto è avvenuto al cara di Pian del Lago durante un regolare controllo degli ospiti. Un gambiano 33enne richiedente lo status di protezione internazionale dava segni di agitazione durante la fila per il controllo di routine e quindi da un controllo più approfondito è stato scoperto in possesso dello stupefacente e è stato quindi denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.